realizzata due punti numero 7 Petralia e altri due punti per il numero 12 Gaudio 2 punti per il numero 14 Francesco Crise Grazie 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 Grazie. Dalla lunetta due tiri per Matteo Martinovic. Grazie a tutti. Per Leoncino esce il numero 9 Martinovic e rientra Marco Busat. Grazie. Grazie. Due punti per numero 15 Buligatto. Grazie. 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 Al termine della gara rimanete tutti al vostro posto perché ci sarà la premiazione e il saluto delle autorità. Tre punti per numero 7, Petralia. Due punti per numero 12, Gaudio. Intanto ricordiamo a tutti i rappresentanti delle altre squadre, si devono reccare qui alla casetta alla nostra sinistra per il ritiro dei cartelli. Grazie. 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 Due punti per numero 7, Petralia. Grazie. 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 2 punti per Giacomo Gastandello 3 punti per Giacomo 4 punti per Giacomo 3 punti per Giacomo 2 punti per numero 12 punti per Giacomo 3 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 punti per Giacomo